Cose che nessuno ti dirà mai sulla scuola, ma che dovresti sapere. Il voto non ti definisce. Lo senti dire spesso, ma in realtà nessuno te lo fa capire veramente. Sì, prendere un 4 può farti sentire una frana, ma non significa che non sei in grado o che non puoi migliorare. Ricorda, è solo un numero e non il tuo valore. Il vero esame è imparare a gestire lo stress. Le verifiche, gli esami, le interrogazioni. Tutto sembra pensato per metterti sotto pressione, ma la vera sfida è imparare proprio a gestire questa pressione. Nella vita fuori dalla scuola, la capacità di restare calmo è molto più importante di saper risolvere un'equazione. Non tutto quello che impari ti servirà nella vita, ma alcuni insegnanti sì. Forse non userai il teorema di Pitagora tutti i giorni, ma ci sono degli insegnanti che ti insegnano più della materia. Ti insegnano la passione, la determinazione o il pensiero critico. Sono proprio questi insegnanti che ti lasceranno un impatto a lungo termine. Studiare tutto la sera prima non funziona. Ma davvero? Chiaramente lo abbiamo fatto tutti. Ma non ti diranno mai che imparare un po' alla volta, giorno dopo giorno, ti risparmia tanto tempo e fatica. Anche se questo ti sembra impossibile, fidati, ricorderai molto di più. I compagni di classe di oggi potrebbero diventare i tuoi alleati domani. A scuola non ci pensi, i miei legami che si creano tra i banchi di scuola potrebbero durare per tutta la vita. Un giorno gli amici con cui stai ridendo in corridoio potrebbero essere le persone su cui contare. Quindi non sottovalutare le relazioni che costruisci ora. Le pause sono altrettanto importanti quanto lo studio. Non ti diranno mai che prendere una pausa non è segno di debolezza. Anzi, saccare ogni tanto ti aiuterà a concentrarti meglio e a ridurre l'ansia. Perché il cervello ha bisogno di pause per funzionare meglio. La scuola non è soltanto un posto per ottenere dei voti, ma è proprio un banco di prova per la vita. Le lezioni, i progetti di gruppo o le difficoltà ti stanno insegnando delle competenze che ti serviranno nel mondo reale. Ovvero risolvere dei problemi, lavorare in squadra, superare gli ostacoli. La scuola è un allenamento per la vita, anche se in questo momento non ti sembra. Queste sono le verità che nessuno ti dice sulla scuola. Ricorda che non è soltanto questione di voti o di esami, ma di come affronti le sfide e cresci lungo il tuo percorso. E a te, quale di queste ti ha sorpreso di più? Fammelo sapere in un commento.